Per DailyBasket.it e Lega 2, Palermo, siete calati nel terzo quarto, Bologna è uscita e la partita vi è sfuggita. Sì, abbiamo completamente, come se avessimo smesso di giocare, in attacco eravamo fermi, non muoviamo più il pallone come prima, un blackout del genere non deve capitare perché squadre come queste, ma su tutti i campi, in trasferta, non te lo puoi permettere. Quindi, niente, abbiamo avuto questo blackout, eravamo sopra di 10-8 punti, una roba del genere e niente, abbiamo smesso di giocare. Grazie, ciao.